Miledi e cavalieri, prendete posto alla tavola rotonda di Reward 2 e benvenuti, benvenute, bentornati e bentornate qui a una nuova puntata di Harry Potter e il calce di fuoco. Oggi ci sarà un capitolo incredibile, incredibile in tutti i sensi e so che alla fine della lettura e della puntata chi non conosce la storia di Harry Potter mi odierà perché chi sa la storia sa perché mi odierà, arriveremo alla fine, lo scopriranno anche loro, già mi immagino gli anatemi nei commenti, però vedrete, vedrete. E' un capitolo importantissimo, come vi avevo già annunciato due puntate fa, noi siamo nella parte finale del libro, questo è l'inizio del climax ascendente verso la fine. Bene, questo è un capitolo importantissimo, ma il futuro, quello che leggeremo la prossima settimana, sarà invece poi il capitolo che cambia completamente la storia di Harry Potter. Non da meno, però quello di oggi è importante e centrale. Direi di non perdere altro tempo e di lasciar parlare Harry, che forse è meglio, è meglio di me. Io sto scomodissimo oggi, quindi probabilmente sarà un parto, è un capitolo molto lungo, quindi rilassatevi, uscirà una puntata. Allontano un po' la telecamera, perdonatemi, taglio un attimo e ci vediamo tra poco. Ciao, a dopo. Eccomi qua, tornato. Sono un po' più comodo. Mettetevi comodi voi ora, come vi dicevo, perché ne avremo per un bel po'. Iniziamo a leggere il capitolo 31, la terza prova. Anche Silente crede che voi sapete chi stia diventando di nuovo più forte, sussurrò Ron. Tutto ciò che Harry aveva visto nel pensatoio, quasi tutto quello che Silente gli aveva raccontato e mostrato dopo, l'aveva confidato a Ron e Hermione. E naturalmente a Sirius, al quale aveva spedito un gufo nell'istante in cui era uscito dall'ufficio di Silente. Quella sera, Harry, Ron e Hermione rimasero di nuovo alzati fino a tardi in sala comune a ridiscutere il tutto finché a Harry non cominciò a girare la testa e capì che cosa intendeva Silente parlando di una mente così affollata di pensieri che sarebbe stato un sollievo rivelzarli altrove. Ron fissò il fuoco della sala comune. A Harry parve che tremasse, anche se la serata era tiepida. «E si fida di Piton?» chiese Ron. «Si fida veramente di Piton, anche se sa che era un mangiamorte!» «Sì», disse Harry. Hermione non parlava da dieci minuti. Era seduta con la fronte tra le mani a guardarsi le ginocchia. Anche lei sembrava avere urgente bisogno di un pensatoio. «Rita Skeeter», borbottò alla fine. «Come fai a preoccuparti di lei in questo momento?» esclamò Ron incredulo. «Non mi preoccupo di lei», disse Hermione alle sue ginocchia. Stavo solo pensando. «Ricordate quando ci ha detto le tre manici di scopa di Ludo Bugman?» «È quello che alludeva, no?» «Ha fatto la cronaca del suo processo. Sapeva che aveva passato delle informazioni ai mangiamorte. E anche Winky, ricordate? Il signor Bugman è un mago cattivo. Il signor Crouch deve essere stato furente che se la sia cavata. Deve averne parlato a casa.» «Sì, ma Bugman non ha passato informazioni di proposito, no?» Hermione alzò le spalle. «E Caramel crede che Madame Maxime abbia aggredito Crouch?» chiese Ron. «Sì», rispose Harry. «Ma lo dice solo perché Crouch è scomparso vicino alla carrozza di Bubaton.» «A lei non abbiamo mai pensato, vero?» disse Ron lentamente. «Badate, è chiaro che ha sangue di gigante e non vuole ammetterlo.» «Certo che no», sbottò Hermione alzando gli occhi. «Guarda cos'è successo a Hagrid quando Rita ha scoperto di sua madre. Guarda Caramel che salta le conclusioni su di lei solo perché è in parte gigante. Chi vuole quel genere di pregiudizio? Anch'io probabilmente direi che ho le ossa grandi se sapessi quel che ci guadagno a dire la verità.» Guarda l'orologio. «Non abbiamo fatto esercizio», esclamò agitata. «Dovevamo fare l'incantesimo di ostacolo. Dovremmo metterci in impegno domani. Andiamo, Harry. Devi dormire un po'. Harry e Ron salirono lentamente le scale che portavano al loro dormitorio. Mentre Harry si infilava il pigiama, guardò verso il letto di Neville. Aveva mantenuto la parola e non aveva raccontato a Ron e Hermione dei genitori di Neville. Mentre si toglieva gli occhiali e si arrampicava sul letto al baldacchino, cercò di immaginare che cosa si prova ad avere i genitori ancora in vita, ma incapaci di riconoscerti. Gli estrani avevano spesso compassione di lui perché era orfano, ma mentre ascoltava Neville russare, pensò che l'amico ne meritava molta di più. Disseso al buio, Harry provò un moto di rabbia e odio verso quelli che avevano torturato i Pachok. Ritornarono alla mente le grida di schierno della folla, mentre il signor Crouch e i suoi compari venivano trascinati fuori dal tribunale da dissenatori. Capiva cosa aveva provato. Poi ripensò al viso biancolatteo del ragazzo urlante e si rese conto con un sussulto che era morto un anno dopo. Era Voldemort, riflette Harry, fissando il baldacchino nell'oscurità. Tutto faceva capo a Voldemort. Era lui che aveva diviso quelle famiglie, che aveva rovinato tutte quelle vite. Ron e Hermione avrebbero dovuto ripassare per gli esami che si sarebbero conclusi il giorno della terza prova, ma in realtà pensavano soprattutto da aiutare Harry. Non preoccuparti, disse Hermione bruscamente, quando Harry glielo fece osservare dicendo che poteva anche esercitarsi da solo per un po'. Almeno prenderemo il massimo dei voti in difesa contro le arti oscure. A lezione non avremmo mai scoperto tutti questi incantesimi. Un buon allenamento per quando saremo tutti Auror, disse Ron eccitato, scagliando l'incantesimo di ostacolo su una vespa che ronzava nella stanza e immobilizzandola a mezz'aria. All'inizio di giugno l'atmosfera nel castello si fece di nuovo tesa e agitata. Tutti aspettavano con ansia la terza prova che avrebbe avuto luogo una settimana prima della fine del trimestre. Harry si esercitava nell'incantesimo in ogni momento libero. Si sentiva più tranquillo per questa prova che per le altre. Certo, sarebbe stata difficile e pericolosa, ma Moody aveva ragione. Harry era riuscito a cavarsela davanti a creature mostruose e barriere incantate prima d'allora. Questa volta lo sapeva in anticipo e poteva prepararsi per ciò che lo aspettava. Stanca di imbattersi nel terzetto in tutti gli angoli della scuola, la professoressa McGranit aveva dato a Harry il permesso di usare la classe di trasfigurazione che era vuota all'ora di pranzo. Ben presto Harry padroneggiò l'incantesimo di ostacolo che rallentava e ostacolava gli aggressori, l'incantesimo reductor che le consentiva di far saltare in aria oggetti solidi che fossero d'intralcio e l'incanto quattro punti, un'utile scoperta di Hermione che avrebbe indirizzato la sua bacchetta esattamente a nord permettendoli di orientarsi all'interno del labirinto. Aveva ancora qualche difficoltà con il sortileggio scudo, però. Questo avrebbe dovuto crearli attorno un muro temporaneo invisibile che deviava gli incantesimi minori. Hermione riuscì a mandarlo in pezzi con una fattura a gambe molli ben piazzata. Harry si aggirò barcollando per dieci minuti prima che lei riuscisse a scoprire la controfattura. Però vai molto bene, davvero, disse Hermione in tono incoraggiante scorrendo la lista e cancellando gli incantesimi che avevano già imparato. Alcuni di questi si riveleranno utili. Venite un po' a vedere, disse Ron che era alla finestra e guardava giù nel parco. Che sta facendo Malfoy? Harry e Hermione si avvicinarono. Malfoy, Tiger e Goyle erano all'ombra di un albero. Tiger e Goyle erano intenti a far la guardia. Entrambi avevano un sorriso perfido. Malfoy si teneva la mano vicino alla bocca e vi parlava dentro. Sembra che stia usando un walkie-talkie, disse Harry incuriosito. Non è possibile, disse Hermione. Ve l'ho detto, quelle cose lì non funzionano, Hogwarts. Andiamo, Harry, aggiunse in tono pratico, allontanandosi dalla finestra e tornando al centro della stanza. Riproviamo il sortileggio scudo. Sirius spediva Goofy tutti i giorni, ormai. Come Hermione, sembrava deciso a concentrarsi su come far superare a Harry l'ultima prova prima di pensare ad altro. In ogni lettera gli ricordava che qualunque cosa stesse accadendo al di fuori delle mura di Hogwarts non era sua responsabilità né era in suo potere modificarla. Se Voldemort sta davvero ritornando in forze, scrisse, il mio primo pensiero è accertarmi che tu sia al sicuro. Non puoi sperare di mettere le mani su di te finché ti trovi sotto la protezione di Silente ma comunque non correre rischi. Concentrati su come uscire sano e salvo da quel labirinto e poi potremmo rivolgere l'attenzione ad altre faccende. Il nervosismo di Harry crebbe man mano che il 24 di giugno si avvicinava ma non era paragonabile allo stato d'animo con cui aveva atteso la prima e la seconda prova. Primo questa volta era sicuro di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per prepararsi. Secondo era l'ostacolo finale e che non uscisse bene o male finalmente il torneo si sarebbe concluso con suo enorme sollievo. La mattina della terza prova la colazione al tavolo di Grifondoro fu molto rumorosa. Comparvero i gufi postini e consegnarono a Harry una cartolina d'aguri da parte di Sirius. Era solo un foglio di pergamena piegato in due con stampata davanti un'impronta fangosa ma Harry da gradi comunque. A Hermione arrivò un barbagianni con l'edizione del mattino della gazzetta del profeta come al solito. Lei aprì il giornale diede un'occhiata alla prima pagina e sputacchiò una sorsara di succo di zucca. Cosa c'è? dissero Harry e Ronnie in coro fissandola svalorditi. Niente rispose frettolosamente Hermione cercando di far sparire il giornale ma Ron lo afferrò. Fisso il titolo e disse non è possibile non oggi quella vecchia vacca. Cosa? disse Harry di nuovo Rita Skeeter no rispose Ron e come Hermione cercò di allontanare il giornale parla di me vero? disse Harry no rispose Ron in tono niente affatto convincente ma prima che Harry potesse impuntarsi per vedere il giornale Draco Malfoy gridò dal tavolo dei serpeverde ehi Potter Potter come va la testa ti senti bene sei sicuro che non ci farai a pezzi? Anche lui brandiva una copia della gazzetta del profeta i serpeverde seduti a tavola ridacchiavano agitandosi sulle sedie per riuscire a vedere la reazione di Harry fammi vedere disse Harry a Ron dammelo con molta riluttanza Ron li tese il quotidiano Harry lo voltò e si ritrovò a fissare la propria foto sotto un titolo a caratteri cubitali Harry Potter è disturbato e pericoloso il ragazzo che ha sconfitto colui che non deve essere nominato è instabile e potenzialmente pericoloso scrive Rita Skeeter inviato speciale sono venute alle luci testimonianze allarmanti sullo strano comportamento di Harry Potter che insinuano seri dubbi sull'opportunità che partecipi a una gara impegnativa come il torneo tre maghi e perfino che frequenti la scuola di Hogwarts Potter come la gazzetta del profeta è in grado di rivelare in esclusiva sviene regolarmente durante le lezioni e spesso lo si sente lamentare un dolore alla cicatrice che porta sulla fronte al ricordo della vecchia maledizione con la quale voi sapete chi cercò di ucciderlo lunedì scorso nel corso di una lezione di divinazione il nostro inviato della gazzetta del profeta può testimoniare che Potter è uscito di gran fretta dalla classe sostenendo che la cicatrice li faceva troppo male per continuare a studiare è possibile spiegano i massimi esperti dell'ospedale di San Mungo per le malattie e ferite magiche che il cervello di Potter sia stato danneggiato dall'aggressione di voi sapete chi e che la sua insistenza nel sostenere che la cicatrice li fa ancora male sia una manifestazione del profondo stato confusionale in cui versa potrebbe anche fingere ha dichiarato uno specialista la sua potrebbe essere una richiesta di attenzioni la gazzetta del profeta intanto ha scoperto fatti preoccupanti a proposito di Harry Potter che Albus Silente preside di Hogwarts ha accuratamente tenuto nascosto al pubblico magico Potter parla il serpentese rivela Draco Malfoy uno studente del quarto anno di Hogwarts un paio di anni fa si sono verificate parecchie aggressioni danno degli studenti e tutti pensavano che dietro ci fosse Potter aveva perso la testa al club dell'anti aveva izzato un serpente contro un altro ragazzo ma è stato messo tutto a tacere lui però ha ancora fatto amicizia con lupi mannari e giganti siamo convinti che farebbe qualsiasi cosa per un briciolo di potere il serpentese la capacità di parlare serpenti da molto tempo è considerato un'arte oscura in verità il più celebre conoscitore del serpentese dei nostri giorni è niente di meno che voi sapete chi in persona un membro della lega di difesa contro le arti oscure che preferisce conservare l'anonimato ha dichiarato che riterrebbe ogni mago in grado di parlare serpentese passabile di indagini personalmente nutrirà i grandi sospetti su chiunque sapesse conversare con i serpenti poiché questi lettri sono spesso usati nella maggior oscura della peggior specie e sono storicamente legati ai malfattori pari meriti chiunque cerchi la compagnia di creature malvagie come i lupi mannari e giganti parrebbe nutriere inclinazioni violente albus silente dovrebbe senza dubbio chiedersi se a un ragazzo del genere debba essere permesso careggiare nel torneo tre maghi c'è chi teme che potter possa ricorrere alle arti oscure nel suo folle desiderio di vincere il torneo la terza prova della quale avrà luogo questa sera mi è un po' strapazzato vero? commentò Harry in tono leggero ripiegando il giornale al tavolo di serpeverde Malfoy Tiger e Goyle ridevano di lui si picchiavano la testa con le dita facevano grottesche smorfe da matti e dardeggiavano la lingua come serpenti come ha fatto a sapere che ti faceva male la cicatrice a divinazione disse Ron non è possibile che fosse là non c'è modo che possa aver sentito la finestra era aperta disse Harry l'ho aperta per respirare eri in cima alla torre nord esclamò Hermione la tua voce non può essere arrivata fin giù nel parco beh sei tu quella che doveva indagare sui metodi magici di spionaggio disse Harry dividimolo tu come ha fatto ci sto provando replicò Hermione ma io ma una strana espressione rapita per base all'improvviso il volto di Hermione alzò lentamente una mano e si fece scorrere le dita tra i capelli ti senti bene chiese Ron guardandolo accigliato sì rispose Hermione in un sussurro fece scorrere di nuovo le dita tra i capelli e poi si avvicinò la mano alla bocca come se parlasse in un walkie talkie invisibile Harry e Ron si guardarono stupiti mi è venuta un'idea disse Hermione fissando il vuoto credo di sapere perché così nessuno avrebbe visto nemmeno Moody e lei avrebbe potuto salire sul davanzale ma non è autorizzata non è assolutamente autorizzata credo di averla incastrata datemi solo due secondi biblioteca solo per esserne certa e con queste parole Hermione afferrò la borsa e sfrecciò fuori dalla sala grande ehi le gridò Ron abbiamo l'esame di storia della magia tra dieci minuti accidenti disse Harry deve proprio odiarla quella skitter per rischiare di perdersi l'inizio di un esame che cosa farai tu alla lezione di Roof continuerai a leggere dispensato dalle prove di fine trimestre in quanto campione dei tre maghi durante gli esami Harry sedeva in fondo la classe e cercava nuovi incantesimi immagino di sì disse a Ron ma in quel momento gli si avvicinò la professoressa e granite Potter i campioni si riuniscono nella saletta qui accanto dopo colazione disse ma la prova comincia stasera disse Harry e si rovesciò addosso le uova strapazzate temendo di aver sbagliato orario lo so Potter disse lei i familiari dei campioni sono invitati ad assistere alla prova finale lo sai questa è solo un'occasione per salutarli si allontanò Harry la guardò a bocca aperta non si aspetterà che arrivano i Darsley vero? chiese a Ron incredulo non so disse Ron Harry è meglio che mi muova o sarò il ritardo da Ruff a più tardi Harry finì di fare colazione nella sala grande che si andava svuotando vide Fred de la Cour alzarsi dal tavolo di Corvo Nero e unirsi a Cedric che entrava nella saletta Croom avanzò ciondolando e li raggiunse poco dopo Harry rimase dove era non voleva andarci proprio no non aveva genitori nessuno della sua famiglia sarebbe venuto a vederlo rischiare la vita comunque ma proprio mentre si alzava pensando che avrebbe potuto approfittarne per salire in biblioteca a fare un altro rapido ripasso di incantesimi la porta della saletta si aprì e sbucò la testa di Cedric Harry dai ti stanno aspettando decisamente perplesso Harry si alzò i Darsley non potevano certo essere là dentro vero? attraversò la sala e aprì la porta Cedric e i suoi genitori erano vicino all'ingresso Victor Croom era in un angolo e conversava fitto in bulgaro con il padre e la madre entrambi scuri di capelli aveva ereditato dal padre il naso dunco dall'altro lato della stanza Flair chiacchierava in francese con la madre che teneva per mano la piccola Gabrielle salutò Harry agitando l'altra mano e lui le rispose poi vide la signora Weasley e Bill in piedi davanti al camino con un sorriso radioso tutto per lui sorpresa esclamò gioiosa la signora Weasley mentre Harry li raggiungeva con un enorme sorriso abbiamo pensato di venirti a vedere Harry si chinò e lo baciò su una guancia tutto bene disse Bill offrendo Harry un chigno e una stretta di mano voleva venire anche Charlie ma non è riuscito a prendersi un giorno di vacanza ha detto che sei stato incredibile con lo spinato Frere de la Cor notò Harry studiava Bill con profondo interesse da sopra la spalla della madre Harry capì che non aveva proprio nulla da obiettare sui capelli lunghi o gli orecchini zannuti è davvero gentile da parte vostra mormorò Harry alla signora Weasley per un attimo ho pensato i Darsley mmm disse la signora Weasley stringendo le labbra si era sempre trattenuta dal criticare i Darsley davanti a Harry ma i suoi occhi lampeggiavano tutte le volte che venivano nominati è magnifico essere di nuovo qui disse Bill guardandosi attorno Violet l'amica della signora grassa gli fece l'occhiolino dalla cornice sono cinque anni che non vedo questo posto è ancora in giro quel quadro col cavaliere suonato Sir Cadogan oh sì disse Harry che aveva conosciuto Sir Cadogan l'anno prima e la signora grassa chiese Bill era già qui ai miei tempi disse la signora Weasley mi ha fatto la predica una notte che ero tornato in dormitorio alle 4 del mattino che cosa ci facevi fuori dal dormitorio alle 4 del mattino chiese Bill guardando la madre stupito lei fece un gran sorriso gli occhi scintillanti io e tuo padre eravamo andati a fare una passeggiatina notturna disse lui fu sorpreso da Apollon Pringle a quel tempo era lui il custode ancora i segni ti va di farci fare un giretto Harry disse Bill sì certo disse Harry e si diressero verso la porta che dava nella sala grande mentre passavano davanti ad Amos Digori lui si voltò ecco di qui allora sbottò squadrando Harry da capo a piedi scommetto che non ti senti così tronfio adesso che Cedric ti ha raggiunto eh cosa fece Harry ignoralo disse Cedric a bassa voce guardando accigliato suo padre e arrabbiato da quando è uscito quell'articolo di Rita Skeeter sul torneotto e maghi sai quando lasciò intendere che eri il solo campione di Hogwarts e non si è preso la briga di correggerla però disse Amos Digori abbastanza forte da farsi sentire da Harry che stava per uscire con la signora Weasley e Bill comunque gliela farai vedere Ced l'hai già battuta una volta no? Rita Skeeter è solo contenta se può far danni Amos ribatte con forza la signora Weasley credevo che lo sapessi visto che lavori al ministero il signor Digori aveva l'aria di chi sta per dire qualcosa di feroce ma sua moglie li posò una mano sul braccio e lui si limitò ad alzare le spalle e a voltarsi dall'altra parte Harry trascorse una mattinata molto piacevole passeggiando per il parco in un dato di sole con Bill e la signora Weasley mostrò loro la carrozza di Bubaton e la nave di Doomstrang la signora Weasley fu incuriosita dal platano picchiatore che l'ha stato piantato dopo che lei aveva finito gli studi e si lasciò andare a diffusi ricordi del guardiacaccia precedessore di Hagrid un uomo chiamato Og come sta Percy? chiese Harry mentre costeggiavano le serre non bene rispose Bill è molto turbato disse la signora Weasley abbassando la voce e guardandosi intorno il ministero vuole tenere riservata la notizia della scomparsa del signor Crouch ma Percy è stato convocato per un interrogatorio sulle istruzioni che Crouch li spedisce sembrano convinti che non siano state scritte di suo pugno persi sotto pressione non li permettono di sostituire Crouch come quinto giudice stasera Cornelius Caramel prenderà il suo posto tornarono a castello per il pranzo mamma Bill esclamò Ron esterrefatto arrivando al tavolo di Grifondoro che cosa ci fate qui? siamo venuti a vedere Harry nell'ultima prova rispose allegramente la signora Weasley devo dire che è una bella novità non dover cucinare com'è andato il tuo esame? oh bene disse Ron non mi ricordavo i nomi di tutti i goblin ribelli così ne ho inventati un po' ah non ti preoccupare aggiunse servendosi di pasticcio della cornovaglia mentre la signora Weasley assumeva un cipiglio severo hanno tutti i nomi tipo Brodod il barbuto e Urg l'unticcio non è stato difficile anche Fred George e Ginny si sedettero vicino a loro e Harry si sentì così bene che gli parve quasi di essere tornato alla Tana dimenticò la prova che lo aspettava e solo quando ricomparve Hermione a metà pranzo gli venne in mente del suo lampo di genio e a proposito di Rita Skeeter vuoi spiegarci? Hermione lo ammonì con un cenno della testa e lanciò un'occhiata alla signora Weasley buongiorno Hermione disse lei molto più rigida del solito buongiorno rispose Hermione ma il suo sorriso svanì di fronte all'espressione fredda della signora Weasley Harry guardò l'una e l'altra poi disse signora Weasley non avrà creduto alla robaccia che Rita Skeeter ha scritto sul settimanale delle streghe vero? perché Hermione non è la mia fidanzata oh esclamò la signora Weasley no certo che no dopodiché però fu molto più affettuosa con Hermione nel pomeriggio Harry, Bill e la signora Weasley fecero una lunga passeggiata attorno al castello e poi tornarono in sala grande per il banchetto serale Ludo Bugman e Cornelius Caramel nel frattempo avevano preso posto al tavolo dei professori Bugman sembrava piuttosto allegro ma Cornelius Caramel che era seduto accanto a Madame Maxime era torvo e non parlava Madame Maxime era concentrata sul suo piatto e a Harry parve che avesse gli occhi rossi Hagrid continuava a guardarla in tralice c'erano più portate del solito ma Harry che cominciava a sentirsi molto più teso non mangiò molto mentre il soffitto incantato sopra le loro teste cominciava a sbiadire dall'azzurro a un violetto fosco Silente si alzò al tavolo dei professori e subito cadde il silenzio signori e signore tra cinque minuti vi chiederò di scendere al campo di Quidditch per la terza e ultima prova del torneo tre maghi i campioni vogliono per favore seguire il signor Bugman giù allo stadio adesso Harry si alzò tutti i grifondoro lo applaudirono Weasley e Armione gli augurarono tutti quanti buona fortuna e lui uscì dalla sala grande con Cedric Flair tutto a posto Harry li chiese Bugman mentre scendevano gli scalini di pietra e si addentravano nel parco tranquillo sto bene rispose Harry era quasi vero era nervoso ma lungo il tragitto continuava a ripetersi le fatture e gli incantesimi che aveva imparato e scoprire che se li ricordava tutti lo fece sentire meglio entrarono nel campo di Quidditch che era ormai del tutto irriconoscibile una siepe alta 6 metri correva per tutto il suo perimetro c'era un'apertura proprio davanti a loro l'ingresso dell'enorme labirinto il corridoio al di là era buio e sinistro 5 minuti dopo l'aria si riempì di voci eccitate dello scalpiccio di innumerevoli piedi mentre centinaia di studenti riempivano le tribune il cielo era di un intenso limpido azzurro e cominciavano a spuntare le prime stelle Hagrid il professor Moody la professoressa McGrenit e il professor Vizios si avvicinarono a Bugman ai campioni portavano grosse stelle rosse lucenti sul cappello tutti tranne Hagrid che aveva fissato la sua sulla schiena del cappotto di Talpa noi pattuglieremo l'esterno del labirinto disse la professoressa McGrenit se vi trovate in difficoltà e desiderate essere salvati sparate in aria una raffica di scintille rosse e uno di noi verrà a prendervi avete capito? i campioni annuirono allora andate disse allegramente Bugman ai quattro di pattuglia buona fortuna Harry sussurrò Hagrid e i quattro si allontanarono in direzioni diverse per disporsi attorno al labirinto Bugman si puntò la bacchetta alla gola borbottò Sonorus e la sua voce amplificata per magia echeggiò sugli spalti signore e signori sta per cominciare la terza prova del torneo tre maghi la prova finale permettete che vi ricordi la situazione del punteggio al primo posto alla pari con 85 punti ciascuno il signor Cedric Diggory e il signor Harry Potter entrambi della scuola di Hogwarts le grida e gli applausi fecero alzare in volo nel cielo sempre più scuro gli uccelli appollaiati sugli alberi della foresta proibita al secondo posto con 80 punti il signor Victor Crum dell'istituto Doomstrang altri applausi e al terzo posto mademoiselle Fleur de la Cour dell'accademia di Bubaton Harry riuscì a scorgere la signora Weasley Bill Ron e Hermione che applaudivano educatamente Fleur a metà altezza delle tribune li salutò con la mano ed essi li risposero con grandi sorrisi di incoraggiamento allora al mio segnale Harry e Cedric disse Bugman 3 2 1 fischiò brevemente Harry e Cedric scattarono in avanti ed entrarono nel labirinto le siepi torreggianti proiettavano ombre nere sul sentiero e forse perché erano così alte e fitte o perché erano state stregate il fragore della folla circostante svanina l'istante in cui misero piede nel labirinto Harry si sentì quasi di nuovo sott'acqua estrasse la bacchetta sussurrò Lumos e udì Cedric fare la stessa alle sue spalle dopo 150 metri si trovarono un bivio si guardarono ci vediamo disse Harry e prese a sinistra mentre Cedric prendeva a destra Harry udì per la seconda volta il fischio di Bugman Croom era entrato nel labirinto Harry accelerò il sentiero che aveva imboccato sembrava completamente deserto volto a destra e avanzò rapido la bacchetta tesa sopra la testa cercando di vedere il più avanti possibile ma non c'era ancora nulla in vista il segnale di Bugman suonò per la terza volta in lontananza ora tutti i campioni si trovavano nel labirinto Harry continuava a guardarsi alle spalle con la sensazione di essere osservato il labirinto era sempre più immerso nell'oscurità man mano che il cielo diventava blu marino si trovò a un secondo bivio guidami sussurrò la bacchetta tenendola piatta sul palmo della mano la bacchetta roteò una volta e puntò alla sua destra verso il folto della siepe da quella parte c'era il nord e sapeva di doversi dirigere al nord ovest per raggiungere il centro del labirinto la cosa migliore che poteva fare era prendere il sentiero a sinistra e girare di nuovo a destra la prima occasione la strada era deserta e tale rimase anche quando Harry imboccò un sentiero sulla destra non sapeva perché ma l'assenza di ostacoli lo rendeva nervoso avrebbe già dovuto incontrarne uno no? era come se il labirinto volesse indurlo a una falsa sensazione di sicurezza poi sentì un movimento alle sue spalle tese la bacchetta pronto all'attacco ma il raggio di luce colpì soltanto Cedric che era appena sbucato di corsa da un sentiero a destra sembrava profondamente scosso la manica della veste fumava li schiopò di sparacoda di Hagrid si bilò sono enormi sono riuscito a sfuggire per un pelo scosse la testa e sparì imboccando un altro sentiero ben deciso a mettere una bella distanza tra sé gli schiopodi Harry riprese a correre poi voltò un angolo e vide un dissenatore avanzava scivolando verso di lui alto tre metri e mezzo il volto nascosto dal cappuccio le mani putrescenti e coperte di croste tese davanti a sé si faceva strada alla cieca verso di lui Harry nodì il respiro simile a un rantolo si sentì invadere da un gelo appiccicoso ma sapeva che cosa doveva fare evocò il pensiero più felice che potè si concentrò con tutte le sue forze sul pensiero di uscire dal labirinto e festeggiare con Ron e Hermione levò la bacchietta e urlò expecto patronum un cervo d'argento sbucò dalla punta della bacchietta di Harry e avanzò al galoppo verso il dissenatore che cadde indietro e si impigliò nell'orlo della veste Harry non aveva mai visto un dissenatore inciampare aspetta gridò avanzando nella scia del suo patronus d'argento tu sei un molliccio ridiculus si dio un colpo secco e forte e la figura esplose in un fil di fumo il cervo d'argento svanì Harry avrebbe voluto che restasse con lui e avrebbe fatto bene un po' di compagnia avanzò più rapidamente e silenziosamente possibile le orecchie tese la bacchietta di nuovo alta sinistra destra ancora sinistra due volte si trovò in un vicolo cieco rifece l'incanto a quattro punti e scoprì che stava andando troppo a dest fece dietro font svolto a destra e vide una strana nebbiolina dorata alleggiare davanti a lui Harry si avvicinò cautamente la bacchietta puntata sembrava una qualche sorta di incantesimo si chiese se sarebbe stato capace di sbarazzarsene facendolo saltare in aria redutto esclamò la formula magica schizzò nella nebbiolina lasciandola intatta si disse che avrebbe dovuto saperlo l'incantesimo reductor funzionava con gli oggetti solidi che cosa sarebbe successo se avesse attraversato la nebbia valeva la pena tentare o doveva tornare sui suoi passi era ancora incerto quando un grido lacerò il silenzio Flair gridò Harry silenzio si guardò attorno che cosa le era accaduto il grido sembrava provenire da un punto più avanti trasse un profondo respiro e si tuffò nella nebbiolina incantata il mondo si rovesciò Harry penzolava dal suolo coi capelli dritti gli occhiali che minaccevano di cadere nel cielo senza fondo Harry se le ricacciò sul naso e rimase lì a ciondolare terrorizzato era come avere i piedi incollati dall'erba sotto di lui il cielo scuro tra punto di stelle si stendeva all'infinito aveva la sensazione che se solo avesse cercato di muovere un piede si sarebbe staccato per sempre dal terreno pensa si disse mentre gli andava il sangue alla testa pensa ma nessuno degli incantesimi che aveva provato era progettato per opporsi a un improvviso scambio tra cielo e terra avrebbe osato spostare il piede sentiva il sangue pulsare nelle orecchie aveva due possibilità o cercare di muoversi o sparare in alto le scintille rosse farsi tirar fuori dal labirinto ed essere squalificato chiuse gli occhi per non vedere il cielo senza fondo e staccò con decisione il piede dal soffitto d'erba all'improvviso il mondo si raddrizzò Harry cade sulle ginocchia sul terreno meravigliosamente solido per un attimo si sentì molle dallo spavento respirò profondamente per calmarsi poi si rialzò e corse avanti guardandosi indietro mentre usciva dalla nebbiolina dorata che scintillava innocente al chiaro di luna si fermò ad un incrocio e si guardò intorno cercando qualche traccia di fleur era sicuro che fosse stata lei a urlare in cosa si era imbattuta stava bene non c'erano segni di scintille rosse significava che se l'era cavata o che era nei guai al punto da non riuscire a recuperare la bacchetta Harry imboccò il sentiero a destra con una sensazione di crescente disagio ma nello stesso tempo non riuscì a non pensare un campione in meno la coppa era da qualche parte nelle vicinanze e a quel che pareva Fleur non era più in gara era arrivato fin lì no? e se fosse davvero riuscito a vincere? fugacemente e per la prima volta da quando si era ritrovato dai campioni si vide di nuovo alzare la coppa a tre maghi davanti al resto della scuola non incontrò nulla per dieci minuti tranne vicoli ciechi due volte prese la stessa direzione sbagliata alla fine trovò un nuovo percorso e lo imboccò di corsa la luce della bacchetta si obbalzava agitando e deformando la sua ombra sulle pareti di siepe poi girò un altro angolo e si trovò davanti a uno schiopodo sparacoda Cedric aveva ragione era proprio enorme lungo tre metri sembrava più che altro uno scorpione gigante il suo lungo pungiglione era inarcato sopra la schiena la spessa corazza brillò alla luce della bacchetta di Harry che gliela puntò contro superficium l'incantesimo colpì la corazza dello schiopodo e rimbalzò indietro Harry si chinò appena in tempo ma sentì odore di capelli bruciati gli aveva striato la testa lo schiopodo emise un lampo di fuoco dalla coda e li si scagliò addosso impedimenta strillò Harry l'incantesimo colpì di nuovo la corazza dello schiopodo e rimbalzò indietro Harry arretrò barcollando di qualche passo e inciampò impedimenta a pochi centimetri da lui lo schiopodo si fermò di colpo Harry l'aveva colpito al ventre molle e indifeso ansante si allontanò da lui e corse nella direzione opposta l'incantesimo di ostacolo non era permanente lo schiopodo l'avrebbe riguadagnato l'uso delle zampe da un momento all'altro prese un sentiero a sinistra e finì in un vicolo cieco uno a destra e finì in un altro vicolo cieco si costrinse a fermarsi col cuore che li martellava in petto formulò l'incanto quattro punti tornò sui suoi passi e scelse un sentiero che lo avrebbe portato a nord ovest correva da qualche minuto quando dì qualcosa nel sentiero parallelo oltre la siepe qualcosa che lo fece fermare di botto che cosa fai? urlò la voce di Cedric che cosa diavolo credi di fare? e poi Harry sentì la voce di Croom crucio l'aria si riempì all'improvviso delle urla di Cedric atterrito Harry scattò in avanti cercando di trovare un passaggio per raggiungere Cedric quando capì che non ce n'erano ritentò con l'incantesimo reductor non fu molto efficace ma bruciò un buchetto nella siepe in cui Harry fece passare a forza la gamba prendendo a calci i fitti rovi e i rami finché non si spezzarono si infilò a fatica nel varco strappandosi la veste e guardando a destra vide Croom incombere su Cedric che sussultava e si contorceva al suolo Harry si rialzò e puntò la bacchietta contro Croom proprio mentre questi alzavano lo sguardo Croom si voltò e cominciò a correre stupeficium l'incantesimo colpì Croom alla schiena si bloccò all'improvviso cadde in avanti e giacque immobile a faccia in giù nell'erba Harry raggiunse di corsa Cedric che aveva smesso di contorcersi ed era disteso col respiro affannato e le mani sul viso stai bene disse Harry in tono brusco afferrandolo per un braccio si rispose Stredic ansimando si non posso crederci mi è strisciato alle spalle l'ho sentito mi sono voltato e aveva la bacchietta puntata contro di me Cedric si alzò era ancora scosso da un tremito lui e Harry guardarono Croom a terra non posso crederci credevo che fosse a posto disse Harry fissando all'ibito Croom anch'io disse Cedric prima hai sentito Flair urlare chiese Harry si rispose Cedric pensi che Croom abbia preso anche lei non lo so disse Harry lentamente dobbiamo lasciarlo qui borbottò Cedric no disse Harry credo che dovremmo sparare delle scintille rosse qualcuno verrà prenderlo altrimenti è probabile che finisca in pasto uno schiopodo se lo meriterebbe mormorò Cedric ma levò la bacchietta e sparò uno spruzzo di scintille rosse che rimasero sospese in alto sopra Croom indicando il luogo in cui si trovava Harry e Cedric rimasero vicini nell'oscurità per un momento guardandosi attorno poi Cedric disse beh credo che sia meglio andare avanti cosa? disse Harry oh sì certo fu una sensazione strana per un attimo lui e Cedric si erano alleati contro Croom ora entrambi si ricordarono di essere avversari avanzarono lungo il sentiero oscuro senza parlare poi Harry presa la sinistra e Cedric a destra il rumore dei suoi passi ben presso svanì Harry avanzò e ricorse più volte all'incantesimo quattro punti per essere sicuro di andare nella direzione giusta ora si giocava tutto tra lui e Cedric il suo desiderio di arrivare alla coppa per primo era più bruciante che mai ma non riusciva a credere a ciò che aveva appena visto fare a Croom l'uso di una maledizione senza perdono su un proprio simile un essere umano significava la condanna vita da Azkaban così aveva detto Moody Croom non poteva certo desiderare la coppa a tre maghi così ardentemente Harry accelerò ogni tanto imboccava altre strade senza uscita ma l'oscurità sempre più fitta gli dava la certezza di essere vicino al centro del labirinto poi mentre percorreva un lungo sentiero dritto colse di nuovo un movimento e il raggio della sua bacchetta cadde su una creatura straordinaria che aveva visto solo disegnata nel libro Mostro dei Mostri era una sfinge aveva il corpo di un leone molto grosso enormi zampe dotate di artigli e una lunga coda giallastra che terminava con un ciuffo marrone la testa invece era di una donna puntò gli occhi a mandorla su Harry mentre quest'ultimo si avvicinava lui levò la bacchetta esitante non era rannicchiata per balzare ma misurava il sentiero a grandi passi sbarrandogli la strada poi parlò con voce rauca e profonda sei molto vicino al tuo obiettivo la via più breve dopo di me quindi puoi spostarti per favore disse Harry che conosceva già la risposta no rispose continuando ad andare avanti e indietro a meno che tu non risolve il mio enigma se rispondi al primo tentativo ti lascerò passare se sbagli ti attaccherò se rimani in silenzio ti lascerò andar via illeso lo stomaco di Harry si contrasse Hermione era brava in quel genere di cose non lui soppesò le possibilità se l'enigma era troppo difficile poteva starsene zitto andarsene via illeso e cercare di trovare un percorso alternativo per il centro va bene disse posso ascoltare l'enigma la sfinge sedette sulle zampe posteriori proprio al centro del sentiero e recitò la prima è la terza di passione e trenne vuole la sottomissione la seconda è colei che è amica o amante del cuore della compagnia costante la terza sei un albero dalla colta foma nobile ramo di foresta incolta ora unisci le tre dimmi o tu viandante nero sei zampe sporco e ripugnante veramente baciarlo e cosa grama sai ora dirmi come esso si chiama Harry la guardò a bocca aperta potresti ripeterlo più lentamente chiese esitante lei batte le palpebre sorrise e ripete la poesia tutti gli indizi si sommano dando una creatura che non mi piacerebbe baciare chiese Harry la creatura si limitò a sorridere con il suo sorriso misterioso Harry lo considerò un sì si mise a riflettere c'erano moltissimi animali che non avrebbe baciato volentieri il primo che gli venne in mente fu uno schiopodo sparacoda ma qualcosa gli disse che non era quella la risposta doveva cercare di risolvere l'enigma un pezzo alla volta la prima e la terza di passione sottomissione ne ha tre aspetta la S e poi amica o amante no non lo so proprio puoi ripetermi il terzo indovinello la sfinge gli recitò la terza parte dell'enigma un albero nobile ramo quercia no no impossibile tasso S tasso no non vuol dire niente e com'era la fine la sfinge paziente ripete gli ultimi quattro versi nero ripugnante un ragno no quello di zampe neotto un insetto baciarlo e cosa grama ma sì se l'albero è il faggio scarafaggio la sfinge gli rivolse un sorriso più ampio si alzò si racchiò le zampe anteriori e poi ci spostò per lasciarlo passare grazie esclamò Harry e scattò in avanti stupito della propria abilità ormai doveva essere vicino doveva la bacchetta gli diceva che era proprio sulla strada giusta se non incontrava nulla di troppo orrendo forse aveva anche una possibilità in fondo c'era un bivio guidami sussurrò di nuovo alla bacchetta che ruotò nella sua mano e gli indicò il sentiero a destra lo imboccò rapido e vide una luce davanti a sé la coppa a tre maghi scintillava eretta su un piedistallo a un centinaio di metri Harry si era appena messo a correre quando una sagoma scura sbucò davanti a lui sul sentiero Cedric sarebbe arrivato prima correva come il vento verso la coppa e Harry capì che non l'avrebbe mai raggiunto Cedric era molto più alto aveva le gambe molto più lunghe poi Harry vide qualcosa di immenso torreggiare su una siepe alla sua sinistra qualcosa che si muoveva rapido lungo il sentiero che incrociava il suo avanzava così in fretta che Cedric stava per urtarlo e poiché aveva gli occhi fisi sulla coppa non l'aveva visto Cedric urlò Harry a sinistra Cedric si voltò a guardare in pena in tempo per evitare l'urto e gettarsi oltre la cosa ma inciampò nello slancio la bacchetta li sfuggì di mano mentre un ragno gigantesco calava sul sentiero e avanzava verso di lui Stupeficium gridò Harry l'incantesimo colpì il mostruoso corpo nero e peloso ma per l'effetto che ebbe avrebbe potuto anche tirargli un sasso il ragno sobalzò si voltò zompettando e punto dritto verso di lui Stupeficium impedimenta Stupeficium ma non servì a nulla il ragno era così grosso e così magico che gli incantesimi riuscivano solo a rallentarlo Harry ebbe un'orrenda visione di otto occhi neri scintillanti e tenaglie come rasoi prima che li fosse addosso il ragno lo afferrò tra le zampe anteriori e lo sollevò in aria Harry lottò furiosamente cercando di prenderlo a calci la sua gamba urtò contro le tenaglie e un attimo dopo provò un dolore terribile udì Cedric urlare a sua volta Stupeficium ma il suo incantesimo non ebbe effetto poi mentre il ragno spalancava di nuovo le tenaglie Harry revò la bacchetta ed esclamò Expelliarmus funzionò l'incantesimo di disarmo costrinse il ragno a lasciarlo andare ma con questo Harry cadde da un'altezza di quasi 4 metri sulla gamba già ferita che gli si piegò sotto il suo peso senza fermarsi a riflettere mirò dritto all'addome del ragno come aveva fatto con lo schioto podo e urlò Stupeficium contemporaneamente a Cedric i due incantesimi insieme riuscirono dove uno solo aveva fallito il ragno si rovesciò su un fianco schiacciando una siepe e invadendo il sentiero con un groviglio di zampe pelose Harry gridò Cedric tutto bene ti è caduto addosso no rispose Harry ansimando si guardò la gamba sanguinava parecchio vide una sorta di spessa sostanza collosa emessa dalle tenaglie del ragno sulla veste strappata cercò di alzarsi ma la gamba li tramava violentemente e non riusciva a sostenere il suo peso si appoggiò alla siepe cercando di prendere fiato e si guardò intorno Cedric era a pochi metri dalla coppa a tre magri che brillava alle sue spalle prendila dai ansimò Harry avanti prendila ormai ci sei ma Cedric non si mosse rimase lì a guardare Harry poi si voltò verso la coppa nel riverbero dorato Harry lo vide a contemplare il trofeo con un'espressione di intenso desiderio Cedric tornò a guardare Harry che si era aggrappato alla siepe per rimettersi in piedi e sospirò profondamente prendila tu tu devi vincere è la seconda volta che mi salvi la vita qui dentro non è così che funziona rispose Harry era arrabbiato la gamba li faceva un male tremendo aveva tutto il corpo dolorante a causa della lotta contro il ragno e dopo tutti i suoi sforzi Cedric l'aveva abbattuto proprio come l'aveva abbattuto nell'invitare Joe al ballo il primo che raggiunge la coppa prende i punti e quello sei tu ti assicuro che con questa gamba non vincerò nessuna corsa Cedric fece qualche passo verso il ragno allontanandosi dalla coppa e scosse la testa no disse smettila di essere nobile disse Harry irritato prendila e basta così possiamo uscire da qui Cedric osservò Harry raddrizzarsi tenendosi stretto la siepe tu mi hai detto dei draghi rispose Cedric sarei crollato alla prima prova se non mi avessi detto che cosa mi aspettava anch'io sono stato aiutato allora sbottò Harry cercando di asciugarsi con la veste e la gamba insanguinata tu mi hai aiutato con l'uovo siamo pari sì ma qualcuno mi aveva già detto dell'uovo disse Cedric siamo sempre pari insiste Harry provando con cautela ad appoggiare la gamba ma la sentì tremare violentemente quando il ragno lo aveva lasciato cadere si era storto la capiglia tu avresti dovuto prendere più punti per la seconda prova disse Cedric ostinato sei rimasto indietro per salvare tutti gli ostaggi avrei dovuto farlo io io sono stato l'unico ad essere così stupido da prendere sul serio quella canzone esclamò Harry amaramente avanti prendi la coppa no disse Cedric scavolcò le zampe aggrovigliate del ragno per avvicinarsi a Harry che lo guardò stupito Cedric diceva sul serio stavo voltando le spalle a quella gloria che la casa di Tassorosso non conosceva da secoli vai tu disse sembrava che ciò gli stesse costando fino all'ultima goccia di determinazione ma aveva il volto risoluto le braccia incrociate e sembrava deciso Harry spostò lo sguardo da Cedric alla coppa per un luminoso estante si vide uscire dal labirinto leggendola tra le braccia si vide levare in alto la coppa a tre maghi udì il ruggito della folla vide il viso di ciò radioso di ammirazione più nito di quanto non l'avesse mai visto e poi l'immagine sbiadì e si ritrovò a fissare l'ostinato volto in ombra di Cedric tutti e due disse Harry come? la prenderemo la prenderemo nello stesso istante è sempre una vittoria di Hogwarts finiremo alla pari Cedric lo guardò stupefatto allargò le braccia sei sei sicuro? sì rispose Harry sì ci siamo dati una mano a uscirne siamo arrivati fin qui tutti e due prendiamole insieme e basta per un attimo Cedric parve non credere alle sue orecchie poi sorrise raggiante va bene disse dai vieni sostenne Harry e lo aiutò ad avvicinarsi zoppicando al piedistallo che reggeva la coppa quando l'ebbero raggiunto tesero una mano ognuno verso i manici scintillanti al tre d'accordo disse Harry uno due tre afferrarono i manici della coppa immediatamente Harry avvertì uno strappo in un punto imprecisato dietro l'ombelico i suoi piedi si erano staccati da terra non riuscì ad aprire la mano che stringeva la coppa a tre maghi il trofeo lo tracinava in alto in un urlato di vento in un vortice di colori con Cedric al suo fianco che capitolo e lo so che ora mi odiate voi che non conoscete la storia di Harry mi state odiando lo so lo so vi chiedo scusa perché interrompiamo proprio sul più bello perché ora è ora veramente un colpo di scena incredibile io la prima volta io sfido chiunque comunque sfido chiunque comunque a dire non mi aspettavo una cosa del genere perché è un colpo di scena incredibile la rolling nei colpi di scena è veramente maestra la prima volta che ho letto il calice di fuoco vi giuro bocca aperta completamente completamente basito cioè veramente veramente io è assurdo non riesco veramente sto dicendo veramente 80.000 volte basta ci siamo capiti insomma rimasi proprio di stucco è un capitolo bellissimo la terza prova è molto affascinante e ricordo che alcuni tra di voi mi hanno detto nei commenti sotto le precedenti puntate che effettivamente era la prova la loro prova preferita e scusate oggi con la lettura mi rendo conto di essermi impappinato un sacco di volte anche in questo commento ma non sto proprio gagliardo vi chiedo scusa perdonatemi spero comunque che vi sia piaciuta la lettura e vi chiedo scusa veramente per gli impappinamenti che sono tanti 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 in questa puntata peccato perché il capitolo è meraviglioso però però detto questo parliamo del capitolo non ci sono delle grandi riflessioni che mi vengono da fare sulla storia in sé per sé se voi invece ne avete qualcuna vi prego ditemela ditemela nei commenti perché magari può essere sfuggita a me giustamente non ho la verità universale con me però però possiamo parlare tantissimo del confronto tra libro e film perché perché ancora una volta il film ne esce a pezzi secondo me ma non tanto perché tantissimi degli ostacoli che Harry incontra nel labirinto nel film non ci sono perché quello ci può stare costa cara appunto la cga e gli effetti speciali mi rendo conto che ricreare il ragno gigante lo schiopodo sparacoda dopo che non sono mai stati nominati giustamente direi erano tagliabili nel film il molliccio di senatore la nebbia dorata che inverte il mondo mamma mia quella cosa è terrificante tra l'altro ecco una cosa curiosa la spinge non so voi ma qual è la prova più brutta secondo voi affrontata da Harry all'interno del labirinto secondo me la nebbia dorata perché immaginate di mettere un passo e ritrovarvi così invertiti il cielo profondissimo e avere la paura di fare un altro passo e di cadere di cadere per sempre perché Harry ovviamente non sapeva che era una trappola un inganno illusorio che effettivamente poi spostando il piede il mondo sarebbe tornato normale tra virgolette quella era una trappola per far cedere i campioni all'istante perché o pensa Harry qui due sono le cose o muovo un piede e cado per sempre o lancio le scintille rosse ma è un grifondoro è coraggioso e sposta il piede che grande che grande uomo Harry Potter e quindi secondo me è quella la prova più più terrificante perché gli altri sono brutti sono terrificanti però secondo me almeno non sono ignoti ecco l'ignoto fa molto più paura secondo me e ditemi se voi eravate arrivati anche alla soluzione dell'indovinello della spinge lo scarafaggio che è piccola curiosità che a nessuno interessa è l'animale che io proprio odio di più in assoluto ho una fobia per gli scarafaggi che brutti che sono vabbè detto questo il film però stavo dicendo non esce male perché non ci sono tutte queste prove anzi l'atmosfera nel labirinto è anche fatta abbastanza bene molto cupa si respira il fatto che sia una prova pericolosa anche se sostanzialmente non incontrano nessun ostacolo diciamocelo a parte le siepi che si animano vabbè vabbè però l'atmosfera c'è perché ne esce male ve lo dico subito secondo il mio pensiero ovviamente vabbè non spendo di nuovo parole sulle fake news della skitter perché ne abbiamo già parlato tantissimo sui pregiudizi sui mezzogiganti e quindi sui pregiudizi che noi abbiamo nei confronti degli altri perché ne abbiamo già parlato tantissimo non parlo dei weasley come vera famiglia di harry potter perché ne abbiamo già parlato di come i weasley abbiano letteralmente adottato harry nella propria famiglia di come harry sia riconoscente e senta veramente battere il cuore quando pensa ai weasley perché veramente li considera come se fossero la sua famiglia tutto questo l'abbiamo già discusso tantissime volte quindi non voglio tediarvi a ripetere le cose però ovviamente ci sono anche questi argomenti nel caso recuperate le puntate precedenti però stavo dicendo che stavo dicendo mi sono perso quindi sì dovevamo analizzare il perché il film non usciva male innanzitutto crum viene mostrato a un certo punto nel labirinto con gli occhi di tipo lattiginosi come avete visto nel libro questa cosa non viene mai menzionata non è un errore del film attenzione ma è uno spoiler ed è un peccato ed è un peccato perché dopo bisognava capire determinate cose non subito perché uno un po' attento con quegli occhi lattiginosi capisce già tanto e non va bene però sia passabile passabilissima come cosa però crum attacca attacca cedric cedric lo stende con un expelliarmus che lo stordisce completamente non gli toglie la bacchetta lo butta a terra stordito ora lo so attaccarsi a queste cose sono un po' minuzie me ne rendo conto però fino a un certo punto perché no dio mio che ti costava dire a posto di expelliarmus stupeficium perché tu gli hai fatto un cacchio di stupeficium che costava questo sapete perché mi fa arrabbiare perché chi scrive la sceneggiatura di harry potter probabilmente il libro non l'ha nemmeno letto non l'ha letto un riassunto e questo è male perché se tu devi adattare un'opera devi averla letta devi conoscerne gli stilemi devi conoscere il mondo di quella cosa perché sono errori che agli occhi io lo so qua qua me l'aspetto qualche commento dire ma tu sei troppo fissato e così con la però un errore bello e buono porca miseria ladra è brutto è brutto fa storcere il naso però mi rendo conto che questo è un po' da estremo fan di harry potter che è proprio storcia il naso per tutto un po' rompipalle me ne rendo conto ma l'errore grave secondo me è l'inversione che hanno voluto fare nel film tra harry e cedric come avete notato nel film è harry che a un certo punto è tentato di abbandonare cedric tra i rovi che lo stanno catturando le siepi si sono animate lo stanno catturando lui ha la coppa là davanti ed è tentato di abbandonarlo però poi lo salva e poi senza dirsi più di tanto cedric dice pensavo mi avresti lasciato qua harry dice per un secondo ci ho pure pensato si attiva un vento magico che sta chiudendo il corridoio dietro di loro che grande che grande ostacolo questa cosa vabbè loro corrono avanti le siepi cercano di prenderli arrivano davanti alla coppa cedric dice prendila tu harry dice prendiamola insieme e le motivazioni perché perché ecco perché in quel caso nel film senza dare un cacchio di spiegazione e sia chiaro hanno messo all'inizio del labirinto la scena con la banda tutti che suonano ballano ma taglia quella puttanata falla di tre secondi e mettimi il discorso bello tra cedric e harry possibilmente senza invertirmi i ruoli perché poi nel libro è cedric che ha questa cosa perché vabbè andiamo per ordine nel film non si capisce una ceppa e harry dice dai prendiamola insieme e perché ora che chi ha letto il libro e ora noi miledio cavalieri che abbiamo letto insieme il capitolo sappiamo il perché innanzitutto è cedric è cedric che rinuncia alla vittoria totale non come nel film harry cedric per entrare bene nella psicologia di cedric per farcelo capire appieno la rolling ce lo fa vedere veramente sotto tentazione lo dice anche il libro tasso rosso e secoli che non hanno qualcosa di cui essere orgogliosi prestigio cedric è l'unico che gliel'ha dato vincendo a qui dice un po' potrebbe darglielo vincendo la coppa tre maghi ed è tentato ed è tentato però facendo uno sforzo in mano lo dice proprio ogni goccia della sua determinazione lui rinuncia e dice no te la meriti tu è onesto cedric è una persona onesta un vero tasso rosso in questo e rinuncia alla vittoria dando ad eri l'occasione dice tu la devi vincere tu mi hai aiutato mi hai salvato la vita due volte qua dentro con crume e con ragno mi hai detto dei draghi lo meriti tu discorso si parlano si capisce perché vuole farlo vincere e eri dice ma tu mi hai aiutato con l'uovo però io così non posso vincere non facciamo i buonisti del cacchio va prenditi sta coppa finiamola qua e amen e cedric no è integerrimo è veramente onesto fino al midollo prende eri e gli dice no la devi prendere tu e in quel caso poi eri dice vabbè allora facciamo una cosa prendiamola entrambi pari punti vittoria per Hogwarts comunque chi si è visto si è visto arrivederci e grazie e cedric la accetta vedete che è diverso dare delle motivazioni e soprattutto mi dispiace che sia stata fatta l'inversione perché di cedric poi sostanzialmente dal film che cosa emerge di questo personaggio e sappiamo che questa scena prende un valore incommensurabile per il prossimo capitolo per la prima pagina del prossimo capitolo mi odierete ancora di più voi che non conoscete la storia cacchio era importante sviluppare un po' di più cedric era importante farti capire quanto fosse una brava persona quanto sia una brava persona porca miseria era importante sottolinearlo più e più volte dell'onestà di questo ragazzo che nonostante tutto anche il padre il padre che ce l'ha con Harry dice lascialo perdere lui non ce l'ha veramente con Harry lui guardate cedric è veramente un bravo ragazzo è una bella persona è una bellissima persona nel film è un bellissimo ragazzo punto e basta e perché non ha modo si restituisce il favore dell'uovo no? anche là si può capire che comunque no non è un figlio di perché lo dice prendila tu la coppa alla fine però non ha la stessa valenza non ha lo stesso impatto perché di cedric noi non abbiamo visto nulla nel film ed è un personaggio importante terziario come volete metterlo ma è importante ma è importante ed era importante che fosse lui a rinunciare alla vittoria era importante scusate era importante perché doveva esserci questo approfondimento bocciato di nuovo il film bocciatissimo caput non e no lo so non me ne frega niente mi potete dire che sono esagerato che sono uno scassa uno scassa bolts però no no non soprassedo a questa cosa perché non è giusto non è giusto chiudo gli occhi tranquillamente all'assenza delle prove nel labirinto ci sta lo capisco budget minutaggio capisco tutto va bene non me lo devi fare uguale ma le cose importanti la la non mi sta venendo il termine caratterizzazione dei personaggi la devi mettere poi voi mi direte ma si capisce comunque ma lo sapete che la maggior parte delle persone che dicono così è perché hanno letto i libri e quindi sanno già il background chi guarda solo il film vi assicuro che tante cose non sono chiare si possono intuire ma non tutti ed è un peccato ma poi perché invertirmi i ruoli perché dai gloria un po' a Cedric un pochino fai lo brillare perché deve essere Harry il centro di tutto tanto Harry nel libro soprattutto non l'abbiamo visto l'ha già fatta la bella figura ma lo fa anche nel film quando va a salvarlo da Krum anche se nel film poi Cedric si salva sostanzialmente solo Harry si abbassa ecco altra cosa vabbè povero Harry vabbè però no dio mio perché non lo capisco veramente a livello logico cioè boh vabbè sì sono il commento oggi è solo uno scassamento di palle verso il film come vi dicevo però gli altri argomenti li abbiamo già affrontati nelle altre puntate non voglio tediarvi quindi questa volta voglio veramente sapere voi che cosa ne pensate quindi voi qua giù voglio tutti commenti tantissimi commenti perché sono veramente curioso fatemi capire voi cosa ne pensate ditemi voi qual è la prova più pericolosa del labirinto secondo voi se ci sono degli spunti di riflessione che a me sono sfuggiti e che a voi vengono e che cosa ne pensate del confronto ora che avete letto il capitolo chi non lo sapeva chi l'aveva già letto è il film fatemelo sapere sono troppo troppo curioso mila di cavalieri vi ringrazio per la pazienza oggi so che è una puntata un po' sottotono e questo capitolo non lo meritava assolutamente non la meritava una puntata sottotono ma come vi dicevo sono un po' così piripì piripì e quindi mila di cavalieri io vi saluto grazie grazie mille per essere stati in mia compagnia e ci vediamo la prossima volta sempre qui alla tavola rotonda di Reward 2 grazie a tutti